il porto non la scrive ma non la voglio conoscere e ma tu stai laggiù il g5 lo ridò voglio fare solo 10 punti gradi no eh no eh no 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 dai Flavia no 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 ruba il figlio ti devo picchiare oppure ti sei giusto da solo? la domanda te la posso fare? no dai io sono angusta vabbè eh? ti piace più il terriccio di mare o il terriccio di terra? non lo so una a caso oppure ti piace la mangusta? non so cosa sia è un animale come fai a non sapere? lo so però non so che animale è è un animale tipo un cane fatto a bacione lo vedo che è un cane ah mi piacciono i cani ah ecco la domanda ehi mi piacciono i cani ai nord tipo è stupido mi ha detto è stupido la ragazza può invitarlo ho capito quello che intendi ma non mi va di rispondere ti dico solo e mi piacciono i cani ok come sei risposto? grazie ah è questa guerra da che mi parla hai risposto ugualmente facendo così però allora questo è live comunque non so che sto in live oh prima vederla no zero spect no grazie zero spect spect be like ti posso mettere dislike? no ma perchè era tanto bello quel pollicentù andiamo a plantare vai concentrati vai concentrati andiamo a plantare sei della sardella ma non è vero mai se te lo dico io se te lo dico io che io vivo in Sicilia eh no te lo dico io ah te lo dico io allora tu come ti tieni già mi sei scordato aspetta zitta non voglio sentire niente guarda la mia descrizione dark allora dark guarda guarda la descrizione del dark staccato l'arco 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 bravo l'arco un nome molto italiano quindi ma quanto sei bello bello cagliolino dovevo chiamarmi scura flapro flapro tu chi è tu? sono graffata tutto il brazzo quanti aspettatori? boh vabbè ti metto un like solo perchè perchè faccio pena perchè faccio quella faccio quella faccio quella faccio quella faccio quella cucina piccolina faccio il mio cappello ciao gfie lascia like ma se vieni on vieni con la canta del tuo amico e così giochiamo rainbow non so se sto ancora in live ma faccio anch'io la live allora e falla e dove sei? vieni qua oddio è passato il gatto mi è venuto un infarto vado prima io ma non fai il giro vieni qua no c'è il drone diego bravo ecco ti amo ma vieni vieni fai a cagare avvio anch'io la live ma vieni vieni però vieni allora youtube yes basta che quantità oddio 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 vieni vieni ok c'è il live ma vai facciamo yeah bravo ah ma non avevo il defuser ah si ce l'ho io cavolo tipo qua mi fa paura santa no ho paura vai che gai mi fa malissimo il braccio sono tutto rosso mi scrivo con l'acconto di mio fratello bravo allora io come una persona intelligente ho cercato di pettinarmi il braccio e mi sono graffiata tutta mi fa malissimo ed è un problema che io sono intelligente ma siete in partita? si si ok 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 no io il braccio è tutto rosso cioè sembro drogata pare che mi hanno staccato un braccio poi l'hanno riattaccato perchè perchè io ho avuto l'abbia idea di pettinarmi il braccio con la spazzola che ha i cosi cosi si e mi sono fatta male perchè mi è andata non lo so non lo so sono graffiata tutta come una brava persona con il consente intellettivo alto tu non mi hai visto il drone cavera? non mi hai visto il drone guarda dove ho il drone guarda dove ho il drone no me l'hanno tolto me l'hanno distrutto no perchè spawni sempre a monculi? io ho da affiussarli da sopra quindi ecco ehm che è successo? stai a dirmi cosa è successo? sei troppo traumatizzato ti prego non muori ti prego quanto muoio? se perdiamo questa porta miseria perchè sto passando davanti a Mau se perdiamo questa porta miseria per perso un'altra e ritorno ok da dietro? da dove? beh no ovvio no giusto a mezzo facciamo di nuovo classi oppure facciamo una perso? una perso io contro te però metti oregon invitami si la fate voi due contro di me visto che c'è pure lui ecco bronzo si a 102 bronzo 1 io a 102 allora invitalo allora invitalo metti oregon oppure caso adesso magari lui entra se lo inviti magari lo inviti se lo inviti se lo inviti se lo inviti e com'è? è notato? come mai sei bronzo? perchè sono scesa con questa classi cambia cambia squadra secret ma almeno mi fa vedere che è dentro ma almeno mi fa vedere che è dentro come si faccia non si scopre che flabba guarda a me ma anche no ma voi avete avviato? ogni tanto vuoi essere come a mezzo da piadino ci sono ci sei ci sei guarda la mia live tranqui ma che fai? io sto ancora alla lobby non tu worry non tu worry child allora allora mi metto quella un po' la trasmission siamo 1v1 no non ti preoccupare dopo il primo round se si bug a volte ti fa entrare eh così faccio un round di mezzo ecco mi ha fatto entrare ecco mannaggia eh eh eccio perchè hai detto il tuo operatore con me? più bene no a me mi ha preso la sua lavora secondo me Nicolas questo qua non è esattamente il tuo main ma perchè occo perchè occo ecco? ma chi l'ha scelto? il gioco? mi sa che questo non è esattamente il tuo main esattamente no esatto ma probabilmente letteralmente no letteralmente no letteralmente 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 buongiorno eh letteralmente che sta corso oh c'è qualche problema eh no ma dove quale? lei ha scelto tutto e non ho comando i miei che tutto avanti tu anche такого ho messo il tronco come c'è il tronco a me il tronco non c'è il tronco ah perchè non ha visto il tronco no non ha visto tutto il tronco è un'altra perpia il film ha spinato no non c'era altre persone allora attorno me lo fate spunti io ho visto che voglio spuntare le cose ma perché lei no? io nella notte mi sto cazzo io non ci vedo niente voi devi mettere il termico perché mi andava mettete il termico termico come se su Epo c'è il termico esatto perché c'è anche su Maria non credo funziona non tu worry file ma non ci vedo niente perché secondo lui io ci vedo qualcosa ma dove sta? è montagna oh dio oh dio non ci credo non ci credo io stavo ricaricando guarda che culo che culo io questa live se la devo ripubblicare sul canale questo pezzo lo taglio vabbè tanto io so in live quindi me la ricaricare lo sai che non si può rintagliare nel live sì invece la stacco più tardi perché se io la stacco questo pezzo la leva c'è non è che c'è la stacco più tardi che non si può ricaricare nel live ma tu sei un genere il tuo video live a caso no io ho capito una cosa cosa ho capito perché ho capito perché Flavia vinto prendo il tuo live prendo il tuo live ma ci sono solo gli aspettatori perché sentivo eco fare ton 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 poi stavo ricaricando mi ha messo paura che credo che credo che era col pompo credevo che era se proprio il pompa vabbè fammi ricaricare ok ma che fa anche che no però diciamo tutto per la stessa non è vero la cerole bannano se se le parola cero il timbano per le bestie ma ho trovato una bomba ma dai che c'è il canale to a segnalare a me non c'è un canale ma non muori che si può plantare ma si può plantare si è stata pure ma come qualcosa stavo uccidendo secret mannaggia a te infatti gli è arrivato pure un colpo da parte mia il reddott il reddott in asce con quale con quale coraggio con quale coraggio con quale coraggio il reddott no io non voglio il reddott se buono poi guarda 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 domanda che mi ha scritto la risposta no ho detto quella domanda che mi ha fatto la risposta è no perché ci chiami botte nel nome non è un po mio sì che si credo vabbè sì che tu botta se sai cosa è perché perché non fa un po di pistola non è non pare fai cagare fai cagare fai cagare vabbè me lo sento ci godo a 14 di vita e ci vuole avrei chiesto per ammiglio peta signala ok trasmissioni no come segnalo ma la segnala non ti la capirò ma mi stai laggiando nooo non ti devi sentire ma mi segnala dai non ti ho segnalato ma le cuffie al contrario ma le cuffie al contrario eccomi cioè non so se avete capito questo round come l'ho vinto cioè guarda quanto smiro ma ho le cuffie al contrario ma le cuffie al contrario ho capito non c'è scritto sinistra e destra non c'è scritto rl come no si spastico te mi sa no 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 non c'è scritto lr sinistra e destra sono delle cuffie con solo estetica non c'è scritto lr non ti preoccupare capita quando si subito capita nasce così ecco i miei cinesi che non l'hanno inventato al reale le mie che sono decinesi ce l'hanno lr che c'entra io ho rotto due faiate due faiati gaming perché la prima l'ho mozzicato il filo la seconda non c'è da invece di darmi invece di darmi invece di darmi una botta mi ha dato un cacciotto sulla testa ha beccato le cuffie mi ha piegato le cuffie poi ho detto vabbè non ne vale la pena ho rotto cinque paia di cuffie ho rotto cinque paia di cuffie di auricolari questa qua il cesto auricolare però non c'è il reale io ho un botto di auricolari pure sempre auricolari io ho tutti rossi io pure sempre a cinesi sempre 2,50 sempre rossi 100 euro mi sono anche belli amici il povero il 90 sono solo di estetica io cioè a me non posso neanche pure l'aziale in questo sromanista bravo tipi roma bravo ti merito un premio eh? tipi roma come ci siamo conosciti? chi ti fa roma ti merita la mia stima eh? no eh va bene chi ti fa roma ti merita la mia stima allora mettiamo più della roma sei anche della roma allora io non dico raga ma non morite cioè noi ridiamo e scherziamo ma voi non morire veramente vabbè non mi ha mai non hai il culo mori no no non l'avevo finito 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 cercavo di finirlo cercavo di finirlo ce l'ho fatta perché tocca ah una mira orribile guarda ma ma com'è possibile che lei ne ti è finito il rinculo quando è sparato mi ha fatto un colpo gli ho tirato mica ho sparato tre colpi che significa? comunque il rinculo funziona no solo il rinculo è quando c'è quando un'arma è rinculata fisicamente funziona tipo quando usi mira e tiene tiene Twitch il nemico è rinculata vabbè mira andiamo giù andiamo lasciamo mira per favore vabbè non mi lascia andiamo giù 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 ti ho detto giù se non esce se non esce giù ti ho detto che ti dico una pombrata cioè no non te la dico perché mi fai pena però io ho cambiato operatore perché hai detto giù se non è giù mi incazzo pure io dopo che cavolo è tua l'ho già ucciso io l'ho ucciso ogni età non vedo però tu mi hai ucciso oddio oddio indovina che Mirina ha messo Flavia su Yet no 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 fammi vedere fammi vedere no 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 ma non potessero diregare i redotti ma io non lo uso proprio a prescindere manco quando ero giorgino usavo cioè a quel puntino mi ricordavo da piccolo mi ricordo quando ero piccolo ma io mai ma c'è è il mirino più orrido magari chi viene da Call of Duty quando inizia Rainbow lo usa come a me però dopo un pochino ti accorgi che fa cagare quindi lo togli quanto sei bello conti io l'ho muto solo per questo posso sentire adesso ha detto bella repressa l'olografico all'acqua 2.300 minuti però è un'attesa perché sto baciando guarda ma in atta io sto baciando il profilo di Flavia c'è un bel cagnolino paura paura vabbè ci stanno un po' dopo che l'ho detto no 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 dove 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 sta in bagno gli ha scappato il ciclo venga ero in bagno è vero era in bagno non lo so io se ci ho pingato nel bagno che vuoi ma sei un imbroglione steaming me lo pare che non sono sceso se era la claymore e io ho detto che stava nel bordo del bagno tu me credi vai là nel bagno c'è 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 vanno a dire la via sta vincendo grazie per colpa di chi comunque non sono laziale sono romanista vedi ok allora non c'è più romanista sei nazista allora ah ok io appena 5 minuti fa ero romanista adesso che è pure in play allora sono diventata un'altra squadra ma non hai capito che tipo è flavia io è roma capito roma ecco ecco no prima hai capito che ti farò ma già no io sto andando col drone in vero più niente ah questo è la prima volta che lo uso è la prima volta che lo uso io metto qua oh ti devo non uccidere oh guarda il ti uccido non ti uccido sono tutti i miei ceresi 5 secondi te lecchi ma io sono giusto guarda la data ho trovato una bomba sono tanto allontanati da me no allontanati io ti sto via andando a testa ok sei un rompipalle basta io ho fatto 30 di vita dai bullismo sta sopra il rampino sta rampinato sopra la torretta sopra che? sopra la cosa questa torretta è rampinato su un po' del mare bravo io fraglione non rivedi dopo ti ammazzo guarda non ti ho visto c'è pure la sole nero c'è due sole nero guardalo sole nero su pistola bravo vada mangiare amma più va bene adesso è più facile vincere senza vado amma amori ciao vedi mi abbia mi abbia potete puoi giù grazie a te è quittato slavia no io la sole nero sull'assalto sull'assalto di twitch sulla pistola dei francesi sulla revolver dei francesi sulla pistola di buck and cross sull'assalto a corpo singolo di buck e su pompa degli inglesi di smoke allora io pure il pompa degli inglesi no va bene il pompa degli inglesi la pistola di vision l'arma di bandit il pompa dei tedeschi è tutta accortellate ciao che scarso non ci vedo niente è tutto rosso è tutto rosso è un po' drogato sei bomba individuata l'obiettivo è raggiunto e non è fatto ah già vabbè io faccio il giro perché c'ho paura bel giro ah 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 si si per culo però che ok io ho dato la scienza per ucciderli adesso qui stiamo facendo il giro vai a fare il male non si è morto? cioè perché? trittato almeno? dove stai? io prendo precazioni e drono no ho fatto me l'ho fatto apposta mi sono fatta seguire il drone per portarti giù mi sono fatta seguire il drone per portarti giù si ma non spawnare sempre accanto a reddile se non è troppo facile in realtà io spawno sempre accanto a reddile io spawno sempre la zona blindata in realtà eh scusa non spawnare sempre la zona blindata che va bene poi la candiere è di là è di là metto anche la reddita così si facilito un po' la cosa dai no grazie sono bravo dai gioca serio che poi dici la scusa è mia è uscito perché io non giocavo perché tu sei scherzo eh 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 intanto 4 cioè 2 vivi 2 4 3 io sono maschilista e quindi c'è che vuol dire almeno maschilista vuol dire che praticamente hai cose contro le femmine cioè che a me sembri un po' più gay no no sicuro io sono maschilista contro la femmina brun vabbè allora non fai il caso eh allora vabbè comunque non è il mio caso no mi stavo grattando la testa 10 secondi in realtà è una scusa per farmi dire che non so che so dronare un drone grazie vabbè lo sapevi che io non ho preso la retta perché ho paura che tu dopo tu mi uccidi perché tu sei forte rimmo e quindi con te si deve giocare serio vero ma sei un uomo nero sei un uomo nero sei un uomo nero perché io non prenderei mai per nessuna ragione la recluta contro le persone forte sei un uomo nero cioè ti mimetizzavi col cielo e che sei castle beh la recluta sai il buio con la recluta nera non direi sai se sei castle va bene se sei castle allora vabbè il cioccolatino fondente quella è un altro conto povero castle non mi tocca il mio pisellone nero ma povero castle sono raccista mi vuoi uccidere perché il cazzo non c'è una città con la tireregola in gente poi le faccio e faccio affettatino di cioccolata a me piace la cioccolata quindi tvb castle dobbiamo individuare una bomba vabbè io so pure il bomba mi cura no ti sei preso veramente castle si si sento il bomba quindi è castle che ne sai di questo castle eh parlavamo di lui potrebbe essere anche il pulso no io ho preso l'aq no è castle no perché sennò ti potevo con l'aq e tu savi il pulso e io ti scatapé scatapé io so anche che capelli di che colore ha i capelli lo sai come fanno una e di come ce lo sentiamo sto vedendo dalla finestra ahimè stai giocando sopra la scrivania io e poi e poi che ah e poi questo ecco poi che vai non mi dica era l'ultimo round cioè non puoi aver vinto dei nuovi come femmine ha vinto dai per farvi caldo vado a mangiare rimanino in parte faccio una libra che dopo ti devo stracciare aspetta quanto ci sai a mangiare quanto? quanto ci sai a mangiare che vuol dire quanto ci sai a mangiare quanto ci sai? quanto ci stai? ah 5 minuti 5 minuti ah ok ciao di dove sono? a 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 Grazie a tutti. 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 Stai diventando buona quando pensi di essere fidanzata. Grazie a tutti. 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 di tutti. di me. vai, vai. sono allergico. ho bevuto troppo acqua. mi ha fatto... e... senza problemi. va bene, va bene. che non mi va. e va bene, va bene. va bene. entra nel party. e va bene. ok, ma... acqua perché... ma... la regina... sono con Giulia... e... la sensibilità... la mia... vai faccio... la... e vai... vai, vai... la... se lo fa... acqua... la... vai, vai Flavia... va bene... la... 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 ... la... 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 ... la... 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 ... la... 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 la...